ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi monteremo e la bugatti quindi ritorna sul canale a bugatti dal numero 17 al numero 20 se non vado errato 19 e 20 esatto e poi 21 quindi mi sa che ce n'era uno in più quindi se non vado errato comunque dopo farò altri pacchi perché ce ne ho altri due non mi ricordavo più quindi qua abbiamo i componenti del numero 17 e niente andiamo a vedere il numero 17 quegli altri componenti sono qua che abbiamo diversi componenti eccetera quello più ecco qua bene abbiamo 18 19 e 20 siamo fino a 20 finalmente arrivati fino a 20 dai iniziamo questo lo buttiamo via dai iniziamo a vedere il numero 17 allora abbiamo numero 17 allora numero 17 era già stato fatto nello scorso video e però io l'avevo messo nell'altro pacco che tengo i componenti quindi io vi consiglio di metterli da parte in un contenitore i componenti che sono staccati tra loro e dovete montare per non rovinare i dannezzarli quindi io vi consiglio di metterli in una scatolona fa che vi danno da agostini se fate l'abbonamento perché io lo faccio con l'abbonamento di agostini premi quindi numero di uscite sono 120 la prima costa 50 centesimi la seconda 5 euro ed altra sempre 11 euro qua parla della competenza una vetrina tecnologica la bugatti spa abbiamo la parte tra quindi l'altra volta nel video abbiamo fatto tre uscite questa volta ne facciamo cinque con questo pacco ma in realtà se ne sarebbero sempre quattro fate conto e niente parla di questa bellissima macchina e abbiamo un po di storia della bugatti veramente bella e chi ha parte tra pierre vero e poi abbiamo le fasi di assemblaggio il turbo compressore posteriore sinistro in questo numero assembleremo le parti che compongono il nostro turbo compressore posteriore sinistro quindi lo andremo a fissare facciamo i diversi passaggi andiamo a vedere che cosa bisogna fare ma io taglierò delle parti per farlo più corto possibile dai iniziamo subito al montaggio allora facilmente dobbiamo prendere questo perno qua cioè questo minuscolo pezzettino e dobbiamo unirlo in questi due fori quindi piccola pressione si vuole comunque lo facciamo e ci vediamo fra un po dai ok perfetto l'abbiamo fissato con una vite ps05 cioè non bisogna incastrarlo e potevano farlo sì che si incastrava il pezzettino però non ho capito hanno fatto così meglio questo è tutto plastica quindi e lo avvitate adesso facciamo la prossima fase e ci vediamo fra un poco nella fase che bisogna fare allora che cosa abbiamo fatto adesso praticamente facilissimo è un pezzettino non ve l'ho fatto nemmeno vedere la vita ma anche l'altro praticamente bisogna incastrarlo qua e bisogna all'usare una vite ps05 anche qua adesso andiamo a vedere la prossima fase ancora e andiamo avanti dai con il montaggio ok che cosa bisogna fare facilissimo prendiamo questo pezzo qua no questo pezzo qua e bisogna incastrarlo qua dentro poi dobbiamo prendere questo pezzo qua che rimane fuori per ultimo e metterlo dentro e poi fissare tutto con un'altra vite ps05 andiamo a farlo e ci vediamo fra un po ok ho fatto un po fatica con la vite ma ne basta la pena ho messo una vite del titanic e una p quindi ecco perché vi dico di tenere le viti da parte perché possono servire di diversi modellini che io faccio che io faccio e niente quindi servono le viti degli altri modellini per assembrare altri modellini ed ecco perché cosa servono le viti in più non solo per tenere da parte ma anche per questo lavoro fantastico comunque abbiamo concluso il passo quindi abbiamo messo tubo compressore tutto quanto dentro abbiamo messo questo e basta questo è il passo concluso adesso andiamo a vedere il numero 18 che ovviamente non posso fare cinque minuti per un solo pezzettino andiamo avanti con i prossimi numeri allora andiamo a vedere fascicolo numero 18 produzione limitata 300 esemplari al mondo guardate che spettacolo guardate che spettacolo dicevo e questa è una bugatti veramente stupenda poi abbiamo la bugatti spa parte e 4 mi pare prima rinascita qua abbiamo un bel motore bellissimo non è quello della bugatti che stiamo costruendo fate conto proposito di motore della bugatti l'ho visto da simon tantotto che saluto se è un grande simon e ci supportiamo a vicenda ed è veramente un grande e lui ha fatto un bestione che sta in una mano quindi diventerà bello bello io farò un video speciale tra cui che faccio vedere i motori delle macchine che ho fatto kit e quella della delorean che ho fatto che stiamo assemblando piano piano ho già recuperato due numeri e mi devono arrivare adesso vedremo quando fare il video dove mi deve arrivare a breve il numero 9 ecco all'incirca poi abbiamo chi ha parte quattro pierre veron la storia e poi abbiamo il turbo compressore anteriore sinistro ma io non ve lo faccio vedere io ve lo faccio già vedere una volta finito ed eccoci qua con il numero 19 allora è veron roadster la grande sport si parla quindi bellissimo le bugatti atlantic parte 1 come è tutto iniziato guardate che spettacolo di immagini veramente bello e niente abbiamo questa immagine questo poster poi lo studio delle miller e poi abbiamo anche la targa florio 1925 1929 parte 1 vincenzo florio veramente interessante e le fasi di assemblaggio che monteremo la portiera e specchietto sinistro quindi sinistra il montaggio della portiera e lo specchietto sinistro che abbiamo fatto anche in quella destra quindi io deduco che se lo volete vedere andate a recuperarlo nella mia playlist e nella mia playlist che faccio vedere il montaggio della bugatti allora e quindi io salto la parte e ci vediamo parte fatta tanto è uguale identico per per questi numeri qua qui per questo numero qua andiamo dai ed eccoci qua con la portiera che è in metallo ragazzi abbiamo assemblato questo componente qua e come ben sapete la maniglia che andate a vedere il video con una vite ps 05 io cosa ho fatto se l'avevo usata dall'altro fascicolo e l'ho recuperata quindi ho messo quella poi abbiamo fatto qualche abbiamo messo una vite di s02 e lo specchietto l'ho limato un po con la lima perché non c'entrava se no come nell'altro vi ricordate bene che poi mi si è spaccato e ho dovuto incollarlo con la colla quindi fate attenzione perché quando si spacca non potete più aprire la portiera da stramanca no io ho dovuto mettere e fissare e dall'alto quindi molto fragile fate attenzione a questo passo quando lo chiudete è fatta e la portiera comunque andiamo a recuperare il numero 20 adesso e andiamo a vedere che cosa bisogna fare in questo numero 20 ed eccoci qua con il numero 20 allora ancora di più la super sport e si parla ed è veramente stupenda e poi abbiamo una linea unica che ha vinto questa macchina che questa macchina ha vinto il guinness world record io comunque vi volevo dire che questo sacchettino l'ho tenuto da parte perché è ancora chiuso e fresco perché non mi è servito quindi l'ho tenuto conservato in questo sito nell'uscita precedente nell'uscita numero 19 la bugatti atlantic parte 2 l'aerolite numero 573 e 3 1 poi abbiamo un bel poster e niente abbiamo la storia di questa fantastica macchina più o meno fantastica ma non è che mi piace particolarmente targa floreo 1925 1999 e 29 parte 2 prima vittoria quindi qua è la storia della bugatti il finestrino e serratura della portiera sinistra quindi si monta il finestrino e la serratura andiamo a fare anche queste fasi tanto potete trovare il fascicolo che ho fatto e nella mia playlist e vedere quei numeri lì bene andiamo a farlo tanto è la stessa cosa della parte destra quindi andate a vedere per la parte destra e facciamolo ok che abbiamo fissato in questo numero allora io direi che abbiamo fissato lo specchietto questo qua con tre viti che non mi ricordo il nome ma comunque e adesso ve lo dico al limite con tre viti di s02 poi abbiamo fatto abbiamo messo la molla all'interno qua dell'interruttore che vedete spinge per l'apertura della portiera e l'abbiamo messo abbiamo fissato con due staffe con due viti di s03 prima ci va quella più più corta che va qua alla fine e poi ci va quella più grossa più larga qua sempre con due viti di s03 poi abbiamo messo questa parte qua vedete e niente abbiamo messo il cardine della portiera e il supporto della portiera che si fissa con una vite di s05 questo è il risultato finale facile ho tribolato un po nell'apertura qua della portiera ma si sapeva come nell'altro allora andiamo a fare il numero 21 che ho già recuperato dai andiamo a vedere che cosa c'è da fare allora qua parla del 2005 primo record di velocità poi abbiamo le bugatti atlantic parte 3 numero 57374 la prima e poi abbiamo questa fantastica macchina qua come poster poi abbiamo diverse immagini targa florio 1925 1929 parte 3 1926 la tripletta poi abbiamo il pannello interno della portiera a sinistra in questo numero monteremo il pannello interno finalmente e nel prossimo il bracciolo che ho già visto nel prossimo numero ecco qua andiamo a vedere le fasi di assemblaggio di questo numero dai andiamo a farle eccoci qua allora abbiamo assemblato il pannello della della portiera e abbiamo aggiunto e niente abbiamo messo il pannello abbiamo messo questo pezzettino qua poi abbiamo messo una vite di s02 qua una vite di s02 qua e una qua una terza quindi ne abbiamo messo tre questo è il componente finito fino cioè montato fino ad ora andiamo a vedere la prossima uscita cioè la 22 ma mi pare che sia un altro pacco andiamo a vedere però e questo è un altro pacchettino della bugatti abbiamo dal numero 22 al numero 25 come vi dicevo prima quindi abbiamo questi pezzettini e c'è poco da montare ma infatti forse farò il prossimo anche di fatto e di vedete abbiamo 22 23 24 25 andiamo a farli subito andiamo a vedere il numero 22 allora e nel fascicolo 22 parla 2010 racco della super sport è fantastica poi le bugatte atlantic parte 4 la misteriosa numero 574 53 e poi abbiamo questa e questo poster abbiamo diverse immagini foto e targa la floreo e 1925 1929 parte 4 prima e doppietta e poi abbiamo continueremo con la portiera e quella sinistra e andiamo a montare per concludere la portiera brazzolo e parte interna della portiera sono facili le fasi infatti questa uscita come vi ho detto con le altre la faremo tutta e poi vi faccio vedere il risultato finale dai andiamo a farla allora che cosa abbiamo fatto in questo numero praticamente abbiamo preso il bracciolo e abbiamo messo il testo di cristalli qua e poi bisogna fissarlo con una vite ps05 poi che cosa bisogna fare dobbiamo prendere questa parte qua e mettere il supporto e fissarlo con una vite ps07 fatto questo prendiamo il bracciolo e lo incassiamo nei due perni e anche questa parte qua quindi lo andiamo a incastrare tutte e due e questo è il risultato finale ottenuto fino ad ora dai facciamo il numero 23 velocemente allora andiamo a vedere il numero 23 2013 racco della grand sport vitesse poi abbiamo qua e la bugatti le bugatti atlantic parte 5 le due viti della n 57473 poi abbiamo il poster bellissimo e niente abbiamo un po di storia e poi abbiamo attacca floreo 1925 a 1929 parte 5 anche qua quarta vittoria e niente poi abbiamo le fasi di assemblaggio che sono facile anche qua tubo di scarico sinistro quindi monteremo il tubo di scarico e con il perso che abbiamo ricevuto nell'uscita numero 19 vi ricordate che ho montato prima bene andiamo a farlo e vediamo che cosa bisogna fare come prima fase ragazzi scusate mi ero dimenticato un numero praticamente il numero 18 non l'avevo e cioè avevo fatto vedere ma non avevo fatto le fasi di assemblaggio perché sono uguali comunque adesso le vado a fare e poi ci vediamo fra un po' è praticamente l'altro tubo compressore che mi sono dimenticato di farlo cavolo andiamo ad aprirlo e facciamolo voilà ok perfetto ragazzi abbiamo ottenuto quindi abbiamo messo queste viti qua e qua che erano lì e abbiamo fatto già tutti i passaggi comunque abbiamo fatto abbiamo messo la prima vite qua che era una vite ps05 che andava qua dentro bisogna mettere prima il numero 18 e il numero 17 e il numero 18 qua invece no all'incontrata e poi niente e comunque avevo sbagliato numero prima e cioè no mi ero dimenticato il numero 18 da fare allora l'ho fatto subito tanto è uguale al numero 17 quindi non ne vale la pena fare nemmeno il video e niente poi abbiamo fizzato un'altra vite qua con una vite ps05 e poi ci sono poi per finire abbiamo messo una vite qua ps07 che tengono in blocco tutte e due vedete bellissimo bellissimo questo motore qua questo è un pezzo del motore quindi andiamo avanti con il prossimo assemblaggio numero 24 dai è ultimo numero io direi perché dopo chiudo il video ed eccoci qua con il numero 24 allora le rivali un mercato di nicchia si parla poi abbiamo qua diverse immagini bugatti atlantic parte 5 l'ultima no parte 6 forse l'ultima atlantic e poi abbiamo un poster come sempre qua è bellissimo qui abbiamo targa floreo 1925 e 1929 parte 6 sempre e le fasi di assemblaggio che mettiamo la metà del tubo di scarico sinistro e andiamo a farle e ci vediamo fra un po' dai allora ci siamo praticamente questo passaggio solo facile perché bisogna unire l'altra metà del tubo di sinistra di scarico e poi fissarlo con delle viti ps05 tutte quante quindi è fatto il passo quindi facilissimo io direi che andiamo a vedere il numero 25 l'ultimo dai questo è l'ultimo ragazzi allora andiamo a vedere il numero 25 pegaso un modello unico veramente bello stupendo ragazzi poi abbiamo la bugatti tipo 51 che si rivela un atlantic l'incredibile destino della n51133 e veramente si cambia argomento nella storia della bugatti e poi abbiamo le fasi di assemblaggio ma sono facili facili collettore di aspirazione sinistra praticamente bisogna fissare questo cioè bisogna mettere questo pezzo qua all'interno di questo ed è già fatto quindi inizio non ce la fa anche un bambino qua abbiamo tutti i componenti che abbiamo assemblato fino ad ora quindi abbiamo i paraurti anteriore a griglia ci fanno vedere un riepilogo cosa abbiamo assemblato fino ad ora il cofano ai fari anteriori e con i primi 25 fascicoli abbiamo lo spoiler posteriore la ruota anteriore sinistra lo scarico sinistro che abbiamo assemblato un minuto fa vano motore poi abbiamo le due portiere d'astra e sinistra questi sono i suggerimenti importanti del modello il tuo modello da bugatti veno 16.4 super spot è un oggetto da collezione e deve essere maneggiato con cura durante il montaggio tutte le parti di questo modello sono analizzate con la massima precisione tuttavia è necessario verificare che si incastrino correttamente prima di fissarle le parti grandi dimensioni devono essere maneggiate con cura per non danneggiarle o deformare durante il montaggio durante il montaggio vengono utilizzati questi diversi tipi di viti le specifiche per le parti in plastica e quelle per le parti metalliche utilizza sempre i viti indicate per evitare di danneggiare il componente o la vite stessa conserva i componenti assemblati in un luogo sicuro e a riparo dalla polvere evitando qualsiasi contatto tra di loro fino a quando non saranno fissate in modo permanente al modello come vi dicevo prima quindi bisogna conservarli in un posto sicuro che non prendano polvere soprattutto per si possono rovinare facciamo questo assemblaggio che è solo una fase poi concludiamo il video dai ecco ho fatto la fase allora semplicemente e banalmente bisogna incastrare questo pezzo dentro c'è gente che deve fare diverse parti per fare questo numero qua se mi metto a ridere è un pezzettino ai ragazzi come vi ho detto questo è il tubo di scarico questa è la portiera a sinistra vado a prendere la portiera a destra e poi concludiamo il video dai ecco qua abbiamo le due portiere portiera a sinistra e portiera a destra assemblate nell'uscita precedente spettacolo veramente questo modellino sta prendendo forma e continuate a seguirmi mi raccomando iscrivete se non l'avete ancora fatto mettete un bel mi piace al video commentate e noi ci vediamo al prossimo video e che non so quando sarà e attivate anche la campanella per lasciare tutte le notifiche dei miei video e questo è tutto da Succa Games un hotelista 0 0 ciao ciao al prossimo video ciao ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale oggi vedremo diverse collezioni non sono queste comunque vi faccio vedere un'altra prima grazie a tutti i miei video grazie a tutti i miei video